E per quelli di voi che sono sempre alla ricerca della cosa giusta da portare al collo durante le iscursioni ecco il Firesteel di Esi. Beh abbiamo visto diversi prodotti di Esi, ultimamente l'Isola 2 disponibile in tutte le colorazioni che vedete a schermo e l'Isola 1 leggerissimo e compatto, anche lui disponibile in un sacco di versioni e con un sacco di accessori. Vi ho anche spiegato quando abbiamo introdotto questo brand su Backpacko che i fondatori di Esi sono istruttori di sopravvivenza di fama internazionale e che gestiscono una delle migliori scuole al mondo, la Randall's Adventure and Training, una realtà che dovete conoscere e che trovate tra le pagine di Backpacko. Per capirci quindi, questo non è uno dei soliti gadget survival che si possono vedere nelle buste delle patatine, ok? Non è quella robaccia che mettono in giro i siti per riempire le pagine. Questo è un accessorio pensato per il fuoco. Beh, accendere il fuoco con gli elementi che si trovano in natura può essere davvero complicato. Anzi, avere un aiutino può fare tutta la differenza del mondo. E questo aiutino qui arriva con la sua scatolina tipo mentine Altoid, con il logo della Randall's Adventure and Training. Ovviamente io ci ho costruito all'interno un kit per il fuoco. C'è questo bigliettino da visita dell'IC che mettono un po' in tutti i prodotti con delle informazioni sulla sopravvivenza. Ma che cosa ci ho sistemato? Dei fiammiferi UCO di quelli stormproof, anti-vento, anti-acqua, anti-tutto. Sono fantastici, con la relativa cartina per accenderli, anzi doppia l'ho messa. Questi li trovate su Backpack.it, come trovate anche le esche di Exotac Quicklight. Poi ho sistemato il coltellino minuscolo, il catterino di Nightcore in titanio, l'NTK05. Non poteva mancare anche una stecca, un'asta di Fire Rod. Questo, il ferrocerio, è praticamente quello che va, ecco è lui, vedete che va all'interno del Fire Rod di Exotac. Per non portarlo tutto lo svito, lascio a casa l'impugnatura e metto dentro il kit solo la stecchetta. Veniamo al pezzo forte che è il Fire Steel DC, che è questa barra d'acciaio lavorato in questo modo particolare. Prima di continuare con la spiegazione del prodotto, volevo dirvi che una scatoletta come questa può essere anche utilizzata come contenitore per produrre il cotone carbonizzato, che è un'ottima esca. Lo fanno spesso, lo si usa con diversi materiali. Date un'occhiata magari ai video proprio della Randall's Adventures in Training. Come può essere utilizzato questo strumento? Beh, in diversi modi, almeno tre per l'accensione del fuoco. Innanzitutto è comodissimo per costruire quella che è la saponetta o l'impugnatura del piolo quando si usa l'archetto. C'è bisogno di tenere fermo il piolo e di girare con l'archetto. Me l'avrete sicuramente visto fare anche nel corso One Night to Knife di Daniele D'Alcanto, oppure proprio nella sua avventura Seven vs Wild. Io ve li lascio tutti in descrizione perché sono belle perle di sopravvivenza. Dunque, quando utilizziamo il piolo e l'archetto, si sviluppa un certo calore che renderebbe anche ingestibile un pezzo d'acciaio. Quindi mettete un pezzettino di regno sopra, poi la mano e poi potete lavorare quanto vi va. È chiaro che è utilizzabile sempre anche come acciarino. Ci sono dei coltelli come proprio l'Isula 2 che non vanno d'accordissimo con gli acciarini così come arrivano. E allora potete utilizzare un oggetto specifico per grattare. Qui tutte le superfici sono estremamente affilate e grattano benissimo l'asta di ferrocerio. Anzi, penso di avervi dato già un'idea sbagliata di questa cosa. No, lo fanno in tanti di fare questo sistema qui. Però si tende a lanciare le schegge, le scintille in giro. Quindi è molto meglio mettere fermo il Firesteel di Esi e solo in questo momento tirare forte l'acciarino. Così tutte le scintille vanno a cadere qui dove avremo sistemato, ecco faccio vedere, l'esca in qualche modo. Questo è utilizzabile anche con la pietra focaia, con la selce. E beh, quello è un sistema un po' più complicato. Si prende in mano questa scheggia, faremo finta che è questa, con l'esca sopra vicino. E si comincia a fare questo tipo di gesto, si comincia alla lontana. Piano piano si avvicina alla scheggia di pietra e si genererà una scintilla. Se riusciamo a catturarla nell'esca abbiamo vinto in qualche modo. L'esca deve essere però davvero un'esca ben fatta. Beh, se volete imparare queste cose contattate una delle scuole di sopravvivenza tra gli amici di Backpacko. Se volete vedere fare il fuoco in questo modo ve l'ho già detto, Seven vs Wild con Daniele Del Canto. L'abbiamo spedito per sette giorni nel bosco con soli sette oggetti e una delle prove che doveva svolgere era proprio accendere il fuoco con l'archetto. Io lo ritengo un ottimo strumento per imparare le accensioni primitive e quindi per diventare più bravi con il fuoco. È perfetto da portare al collo, non è leggerissimo ma è piacevole. Soprattutto con uno di questi con noi non dobbiamo più stressarci nella scelta del coltello che deve avere il bordo per il Firesteel, ok? Quindi mi raccomando dateci un'occhiata, date anche un'occhiata a tutti i nostri acciarini di Exotac perché sono i migliori al mondo, sono disponibili su Backpacko e vi faranno divertire con un oggetto del genere. Vi devo anche dire qualche caratteristica tecnica, ad esempio che è realizzato in acciaio 1095 e lo stesso acciaio dei K-Bar classici. È fatto negli Stati Uniti e le dimensioni sono di 4 cm per 8, spesso ben 5 mm. Lo consiglio chiaramente a tutti quelli che vogliono sperimentare ed imparare con il fuoco. Tra l'altro se vi piace questo argomento del fuoco non dovete perdervi questo libro, Fire si chiama, ve lo faccio vedere a schermo. Ci sono molti modi più semplici per accendere un fuoco ma pochi sono così stilosi come il Firesteel dell'ISI. Se ti è piaciuto questo video lascia un bel pollicione qui sotto e iscriviti al canale. Ogni sera alle 20 una nuova recensione con un giocattolino che ci piace parecchio.